Abbiamo ritenuto opportuno fare la rinuncia all'iscrizione al campionato di promozione e quindi concentrare tutte le nostre energie sia in termini di tempo che di risorse umane che di risorse economiche nella costruzione di un viveio giovanile che deve diventare sempre di più un riferimento a livello regionale e nazionale. Presenteremo nel corso delle prossime settimane il nuovo organico del settore giovanile. Si punterà a creare una scuola calcio anche all'interno delle scuole, si punterà ad ampliare e a rafforzare quello che è il rapporto di affidazione con la nostra società principale che è quella del Trapani Calcio. Praticamente quello che faremo per quello che riguarda i nostri giocatori che si sono dimostrati splendidi in tutti questi anni perché lo ricordiamo noi siamo l'unica società a livello regionale che partecipava ai campionati senza nessun tipo di rimborso verranno tutti svincolati e quindi saranno liberi di poter andare ovunque riterranno opportuno. Per quello che riguarda gli under invece alcuni di questi andranno in prova nelle società, nelle formazioni giovanili del Trapani Calcio mentre per altri ragazzi stiamo trattando la cessione e il trasferimento a titolo temporaneo in alcune squadre di Serie D. Il Machitella in questi anni ha dato un messaggio importante alla città perché nel 2010 quando la nostra realtà è nata abbiamo dato un grosso impulso in quanto il calcio praticamente era in decadenza. Abbiamo un po' dato, se così si può dire, un messaggio culturale alla città di Gela che ha riscoperto la voglia di calcio oggi in un contesto completamente cambiato dove comunque abbiamo una prima squadra che è il Gela Calcio che farà il campionato di Serie D, un contesto anche di squadre minori abbastanza rinfoltito sentiamo l'esigenza di lavorare sul settore giovanile in quanto per esempio nella provincia di Galtanissetta non esistono scuole calcio elite e il prodotto locale gelese si è dimostrato negli anni un prodotto abbastanza scadente quindi vogliamo, non perché non ci siano talenti, anzi il contrario, però ovviamente questi talenti dei nostri ragazzi hanno bisogno di strutture e di organizzazioni adeguate alla loro crescita ed è lì che noi vogliamo puntare e lo faremo alla grande come abbiamo sempre fatto.